Un falso frate annuncia l'arrivo di un falso eremita che ostenta false pratiche religiose per sedurre false virtuose e inserirle in un falso catalogo di mirabilanti conquiste. E' il grande tema del travestitismo, il grande tema dell'erotismo, che dai miti greci al medio fantastico, giunge al 700 voluttuoso, al 900 del Fabrizio D'Andrea di Carlo Martello o anche alla mistica di X-Men. E quanto racconteremo con Alessandro Viscogliosi l'11 ottobre al Teatro Manzoni di Bologna.